In data odierna all'esito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione tra le province di Napoli, Salerno e Caserta a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emesse dal GIP presso il Tribunale di Nola nei confronti di 14 persone, imprenditori e prestanomi operanti nell'Interland napoletano, a vario titolo indiziate da aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio di rottami metallici. Contestualmente è in corso di esecuzione un decreto di sequestro per un valore complessivo pari a oltre 10 milioni di euro, profitto dei reati di evasione nei confronti degli autori della frate fiscale e dei beneficiari del meccanismo evasivo. Le attività di indagine avviate nel 2019 hanno consentito di disverare un articolato sistema illecito basato sulla creazione di oltre nove società cartiere, ossia prive di reale operatività intestate a prestanomi sulla presenza di società filtro interposte tra le cartiere e i beneficiari della frode, sulla fatturazione di false operazioni di vendita di rottami metallici e infine sul ritiro in contanti in modo frazionato presso ATM e Bancomatto localizzati in tutta la provincia partenopea dagli imposti evasi. Il sistema così realizzato ha consentito alle società beneficiari, localizzate nel Mezzogiorno d'Italia, di creare costi fittizi da inserire in dichiarazione, sottraendo a tassazione complessivamente 43,7 milioni di euro più 9,6 milioni di IVA. Il meccanismo evasivo ricostruito nel corso delle indagini è stato confermato durante le perquisizioni, eseguite presso la società principale degli imprenditori ideatori della frode, dove sono stati rinvenuti 50 mila euro in contanti, nonché timbri e carnet di assegni riferibili alle varie società cartiere. Il GIP presso il Tribunale di Nola ha pertanto risposto gli arresti domiciliari nei confronti dell'imprenditore autore della frode, l'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di altri tre soggetti, imprenditori e dipendenti, l'obbligo di presentazione alla PG nei confronti di due impiegati che assistevano e supportavano l'autore del meccanismo evasivo e di vieto di svolgere attività imprenditoriale e di assumere incarichi amministrativi nell'ambito di imprese per la durata di un anno nei confronti di otto soggetti ritenuti essere prestanomi.